Musica Buonasera amiche ed amici di Delta TV, ben ritrovati ancora una volta qui con noi a Time After Time. Ieri abbiamo cominciato a parlare con i nostri due ospiti, il dottor Calabrese e la dottoressa Fontana di celiachia. Abbiamo affrontato vari argomenti rispetto a questo disturbo alimentare, abbiamo parlato della diagnosi, abbiamo parlato dei sintomi di questo disturbo alimentare. Oggi però continueremo a parlare con loro sia per conoscere quali sono i progetti che l'associazione italiana Celiaci ha intenzione per quanto riguarda la nostra regione e la Puglia di portare avanti nel breve e nel medio periodo. E soprattutto vogliamo capire anche quali sono i controlli che i celiaci devono necessariamente fare e ogni quanto devono farli soprattutto. Quindi io innanzitutto saluto ancora una volta i nostri due ospiti e risaluto tutti voi. Ma cominciando proprio per entrare nel vivo dell'argomento, quali sono i controlli che i celiaci devono fare? Allora, i controlli dobbiamo distinguerli nella prima fase della diagnosi, subito dopo la diagnosi, sono mirati a monitorare la riduzione del valore delle anticorpi antitraslutaminasi che abbiamo citato appunto ieri. In quanto i primi controlli indicati sono a tre mesi, a sei mesi dall'inizio della dieta e di volta in volta ogni sei mesi fino a che i valori delle transglutaminasi non saranno tornati a valori nella norma. Una volta appunto normalizzate le transglutaminasi si possono eseguire tranquillamente dei controlli annuali che prevedono sia la valutazione delle transglutaminasi, la valutazione dell'assetto marziale, quindi del ferro, della ferritina, un emocromo e facciamo anche nel nostro centro una valutazione di screening per le eventuali patologie associate alla celiachia che sono il diabete autoimmune e la tiroidite autoimmune e quindi controlliamo sempre la glicemia o gli anticorpi antitiroglobuline, anticorpi antitiroperossidasi e la funzionalità tiroidea che sono appunto indici di sviluppo di queste patologie. Ricordo che comunque abbiamo parlato ieri di pazienti predisposti, i pazienti predisposti possono eseguire, che non sono celiaci, possono eseguire invece controlli sierologici delle transglutaminasi una volta ogni due o tre anni. Nell'ambito dei pazienti pediatrici è importante eseguire anche dei controlli clinici presso i centri di riferimento per valutare la regressione della sintomatologia riferita, eventualmente miglioramento della crescita nell'ambito di pazienti pediatrici che appunto manifestavano alterazioni della crescita staturoponderale e appunto riduzione dei sintomi riferiti e monitoraggio delle condizioni cliniche. Inoltre il controllo clinico presso il centro di riferimento è anche un'opportunità per le famiglie per confrontarsi con la classe medica o comunque con il nostro centro per poter apprendere nuove iniziative, nuove informazioni che potrebbero anche sfuggire senza fare questi controlli periodici annuali presso i centri di riferimento. Allora, dottoressa Fontana, ci sono dei consigli invece che voi date per i pazienti predisposti, quelli che lei ha citato prima? Consigli per quanto riguarda lo stile di vita? Alcuno. Infatti il DQ2 e il DQ8 sono geni che sono normalmente espressi e che hanno anche altre funzioni e che comunque non sono indicativi di patologia. Sono presenti appunto in buona parte della popolazione generale e non danno nessun tipo di problema. L'unica cosa è che il paziente predisposto è invitato a fare dei controlli periodici con cadenza annuale o biennale per la valutazione di un'eventuale positivizzazione degli anticorpi antitrasglutaminasi. Ma non c'è nessun motivo appunto di creare allarmismo nel paziente predisposto. Mentre per quanto riguarda l'evoluzione storica di questa condizione alimentare, nel tempo è andata via via migliorando la possibilità di diagnosticare la celiachia. Quali sono le prospettive che lei vede nel futuro? Allora, sulla base degli studi che si stanno compiendo appunto in questi tempi parliamo dei provvedimenti che potrebbero aiutarci più che altro nelle trasgressioni volontarie alla dieta, cioè in quelle occasioni nelle quali il paziente celiaco è impedito a seguire pedissequamente la sua dieta. In quanto appunto non abbiamo ancora dati che permettano di valutare un'evoluzione a lungo termine dell'assunzione di questi presidi che sono ad esempio l'utilizzo di lieviti che potrebbero essere associati e quindi utilizzati durante l'impasto che permettano di eliminare il glutine oppure delle proteine che potrebbero appunto scindere il glutine in frammenti più piccoli che non si rendano appunto tossici a livello intestinale. Oppure si sta studiando molto sulla zonulina che è una sostanza che è responsabile dell'aumento della permeabilità intestinale nei pazienti celiaci che è appunto la base appunto patogenetica della malattia. Si sta studiando su questi elementi ma non si hanno ancora dati definiti in Italia di utilizzo di questi prodotti nell'uomo e comunque anche nei pazienti pediatrici. Abbiamo ancora molto da fare. Invece quali possono essere le conseguenze rispetto all'assunzione magari involontaria di un alimento che un celiaco non dovrebbe mangiare? Allora l'assunzione involontaria, quelle che noi definiamo appunto trasgressioni potrebbero anche non manifestare alcun tipo di sintomatologia in quanto il paziente potrebbe assumere involontariamente il glutine e non accorgersene. Di contro molti pazienti pediatrici, soprattutto i ragazzi, gli adolescenti fermi del fatto che non hanno sintomi dopo l'introduzione del glutine possono compiere delle trasgressioni volontarie, magari anche all'insaputa dei propri genitori. Questo però non indica che non si sviluppi un danno a livello intestinale. Il danno si può sviluppare anche con la semplice assunzione di un piccolo pezzo di pane o comunque di qualsiasi, anche una benché minima, parte di glutine e di famiglia. Quindi anche una quantità minima? Anche una quantità minima. Soprattutto se reiterata nel tempo può determinare un danno a livello intestinale. Quindi il paziente può anche non accorgersi di aver subito un danno, però la verità è che anche se non dovesse avere degli effetti collaterali, non dovesse avere delle manifestazioni evidenti dell'assunzione di alimenti non corretti, un danno c'è comunque. Questo è anche bene sottolinearlo. Il danno si sviluppa anche nei pazienti asintomatici, però in questo ci aiutano le transglutaminasi che noi valutiamo nei controlli periodici perché ci possiamo aspettare che un'introduzione costante di glutine possa determinare una ripositivizzazione degli antitransglutaminasi nei pazienti che avevano negativizzato e che quindi fanno già controlli annuali, oppure una riduzione, quindi alterazione del trend in discesa delle transglutaminasi nei pazienti che stanno ancora facendo, che hanno fatto diagnosi da poco tempo. Ecco, magari in questo, dottor Calabrese, anche il ruolo vostro, quindi dell'associazione, su quello di sensibilizzare le famiglie, i pazienti, i genitori dei celiaci, proprio per far comprendere a tutti quanti quanto sia importante avere un diario alimentare corretto. Corretto, sì. Per questo noi abbiamo sollecitato la Regione Puglia, soprattutto le ASR, ad istituire degli ambulatori integrati di celiechia. A Bari l'ambulatorio è presente al Policlinico, presso la Clinica Pediatrica Trambusti, diretta dal professor Cavallo. Per quanto riguarda gli adulti, presso l'unità operativa di gastroenterologia universitaria dell'Università di Bari, diretta dal professor Di Leo. La nostra referente, la nostra professoressa è Anna Cinzia Amoruso. Si possono tranquillamente rivolgere presso questi centri, dove il celiaco o il sospettato celiaco viene preso in carica, ma viene preso in carico da un'equip, da un'equip di specialisti. Tra questi anche la dietista, perché occupa un ruolo fondamentale. E qui mi vorrei soffermare proprio su questo, sul ruolo della dietista e della dieta che il celiaco deve seguire. Della dieta, perché proprio per evitare quello che diceva la dottoressa, le assunzioni involontarie o le piccole trasgressioni, ecco il supporto della dietista, dove far comprendere quali tipi di alimenti può mangiare, addirittura il grado di cottura, perché è molto importante, o addirittura le modalità di cottura. Perché addirittura non è da sottovalutare il fatto di utilizzare, tra virgoletto, un tegame dedicato. Perché magari ci possono essere delle sfidi, delle tracce. Delle tracce di glutine, soprattutto quando noi facciamo sempre l'esempio classico, la colapasta, lo scolino. Beh, si può anche uno, volendo lavarlo accuratamente, perché il glutine va via soltanto lavando, lavando. Senza usare artificio o chissà che cosa. Quindi basta lavare accuratamente tutti i... Io dico sempre alle mamme, tenete da parte uno scolapasta delicato, ecco questo, perché si possono andare a... Esattamente, perché sono degli accorgimenti minimi, cioè in una casa avere delle pentole o delle scolapasta dedicati, se si ha un figlio celiaco e uno no, voglio dire, non costa niente e vi dà la possibilità di avere una certezza che perlomeno in casa non si incorre in alcun pericolo. Ma proprio per quelle cose che dicevamo ieri sera, di non creare quelle fobie, chiaramente non parliamo solo di tegami, non parliamo di piatti, ho addirittura, ho sentito che ci sono mamme che hanno addirittura dei tovaglioli dedicati. Non, 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 bisogna dirlo purtroppo anche questo, purtroppo. Anche perché noi dobbiamo ricordare a chi ci segue, lei l'ha detto nella scorsa puntata, che qualsiasi dubbio insomma a un celiaco, alla mamma di un celiaco possa venire, c'è la guida che io so si può anche scaricare su iPad, su iPhone, quindi su tutti questi supporti moderni, tecnologici, che voglio dire chiunque di noi porta in tasca ogni giorno, qui ci sono tutti gli alimenti pericolosi, tutti gli alimenti consentiti per un celiaco, quindi è facile, basta consultarla e basta consultarla e avere contezza di quello che si può e di quello che non si può mangiare. Anzi io vi invito a scaricarla e a metterla su iPad o su iPhone, così sicuramente insomma diventa più facile prendere note di quello che si può mangiare, di quello che non si può mangiare, dopo di che se uno ha un dubbio immediatamente apre la guida e ricerca ed è facile capire se lo può o non lo può. Io auspico che prima di scaricarsi si iscrivano. Lei l'ha scaricata però, dottor Carelli, lei l'ha scaricata? No, io non lo scaricare perché sono argomenti quelli informatici che non vado molto d'accordo. Infatti è venuto col supporto tradizionale che è quello che ha fatto. Beh, diciamo è quello tradizionale. Per l'Amenica lo preferisco anche io che sono abbastanza negato. Però io so di giovani insomma che sono più ad entrare a questi argomenti che lo hanno fatto. Insomma ci sono 150.000 applicazioni su iPhone, su tutti questi supporti. Nicola Gatti è un esperto fra l'altro anche di iPad. Non ci vuole niente a scaricare invece un'applicazione che può essere davvero utile. Anzi proprio Nicola e Francesca, quali sono invece le vostre domande oggi? Buonasera, allora io vorrei chiedere, qualcuno dice di essere guarito dalla celiachia. Ecco è possibile effettivamente guarire da questa tra virgolette malattia? E inoltre volevo chiedere quali sono i progetti dell'associazione, quelli in corso e quelli futuri? Allora, innanzitutto non è possibile guarire dalla celiachia quando questa è stata diagnosticata correttamente, allo stato delle conoscenze attuali, perché comunque la celiachia offre tantissimo spunto per la ricerca e il rinnovo delle nostre conoscenze attuali. I casi di presunta guarigione dalla celiachia sono probabilmente casi basati su diagnosi fatte non correttamente, magari in era pre-anticorpio-antitrasglutaminasi o comunque con esami istologici non particolarmente indicativi, non classificabili e quindi si può tentare la riesposizione al glutine in questi pazienti pensando quindi poi a un monitoraggio delle transglutaminasi e un'eventuale rivalutazione. I pazienti che sono capitati appunto nel nostro caso, nel nostro centro, che sono stati esposti al glutine poiché le diagnosi non erano state fatte correttamente, comunque non hanno dimenticato completamente il problema celiachia. Sono sempre invitati a sottoporsi a controlli periodici e valutare appunto la serologia per poter eventualmente identificare immediatamente un eventuale rialzo della serologia degli anticorpi e quindi riprendere la dieta. Oppure comunque se la diagnosi non è stata fatta correttamente si può anche riesporre al glutine e se non ci sono più rialzi dei parametri serologici non è necessario. Quindi praticamente per sintetizzare in linguaggio non medico, non tecnico, dottoressa, si può? La celiachia, le conoscenze attuali, non si guarisce. Perfetto. Mentre per quanto riguarda i progetti dell'associazione? I progetti dell'associazione ne erano tanti e ne sono ancora tanti perché dobbiamo essere sempre più presenti sul territorio per migliorare la quotidianità e la vita del celiaco, questo è senza dubbio. Noi siamo presenti sul territorio in che misura? Abbiamo questo progetto che si chiama Alimentazione fuori casa proprio perché tendiamo sempre ad aumentare sempre di più le strutture informate sulla celiachia. Poi abbiamo quell'altro bel progetto, un progetto scolastico, si chiama Infuga dal glutine dove l'associazione incontra la scuola, incontra il corpo docente, incontra i genitori. Il momento della scuola è un momento importantissimo per il celiaco perché quando ci sono le festicciole, quando ci sono le gite scolastiche, sono tutti momenti tra virgolette un po' critici per il celiaco. Però pian piano ci siamo riusciti, perché l'importante è informare, coinvolgere genitori, corpo docente ad avere coscienza di questa patologia. Nicola, invece, qual è la tua domanda per i nostri ospiti? Buonasera, innanzitutto io, mentre voi parlavate, ho controllato proprio sul mio iPad e effettivamente ho avuto modo di trovare molto velocemente l'applicazione che si chiama Ike Mobile. La domanda che io invece volevo porre, soprattutto al presidente dell'AIC, è questa. Le istituzioni, lo Stato, in cosa viene in aiuto alle persone affette da celiachia? Allora, lo Stato viene in aiuto con un contributo, proprio per l'approvvigionamento di questi prodotti che hanno un costo elevatissimo, ce ne rendiamo conto. Purtroppo l'associazione può fare ben poco. Anzi, quest'anno ha sollecitato la Regione Puglia ad erogare una quota di contributo, soprattutto per le donne adulte dai dieci anni in poi, perché dobbiamo premettere una cosa. Questo contributo è un contributo mensile che lo Stato dà ad ogni celiaco, diviso per fasce. Come si fa ad accedere a questo contributo? Ci sono delle procedure che il celiaco deve seguire? Sì, all'atto della diagnosi, oltre all'esenzione di cui ne parlava la dottoressa, ha diritto, presso l'ASL, presenta chiaramente tutta la documentazione, ha diritto ad avere questo contributo, che non sono altro che un blocchetto di buoni, 12 buoni, uno per ogni mese, frazionato in quattro parti, da spendere in farmacie oppure in un domani, lo spero quando prima, nella grande distribuzione o nei punti vendita convenzionati con l'ASL. Quindi sinteticamente il celiaco ha diritto a un buono settimanale, mensile, ha un buono mensile, però frazionato in quattro parti, perché si dà la possibilità al celiaco di andarlo a spendere in momenti diversi e in strutture diverse. Ecco, voi invece non siete di, diciamo, non vi volete sostituire a quelle che sono le strutture sanitarie, a quelle che sono invece i presidi medici, voi siete da supporto, siete una terza gamba. Supplenti, siamo supplenti, supplenti perché è il termine esatto, perché più delle volte, diciamo, sono tra virgolette un po' assenti, ecco, questi enti. Noi siamo sempre di supporto. Forse più che assenti voi avete la possibilità di essere più vicini proprio in maniera concreta al paziente, avete la possibilità di dargli dei consigli più utili, di essere vicini passo dopo passo, sia da un punto di vista medico, da un punto di vista psicologico, ma anche da un punto di vista umano, che io penso sia forse il più importante, non soltanto per i celiaci, ma per tutti i soggetti che sono, diciamo, devono seguire un regime alimentare particolare. Quindi io immagino, insomma, che il compito della vostra associazione sia un compito importante e che continuerete ad assolvere nel migliore dei modi. È importantissimo perché la nostra missione è proprio quella di dare dei servizi e di migliorare la vita di queste persone. In Puglia ne siamo circa 8 mila i celiaci. Iscritti alla nostra associazione sono oltre 6.200, non è un piccolo numero, quindi gestire questi numeri non è semplice, perché oggi c'è un'attenzione maggiore rispetto a tanti anni fa sulla celiachia, per cui dobbiamo essere al passo con i tempi. Dottor Colabrese, consulti la sua guida perché adesso, finendo la trasmissione, ci andiamo a mangiare una pizza tutti insieme. Ben volentieri. Io la ringrazio per essere stato qui con noi, ringrazio anche la dottoressa Fontana che è stata assolutamente chiara nello spiegarci tutte le manifestazioni di questa condizione alimentare, ringrazio Nicola e Francesca come sempre e ovviamente ringrazio tutti voi per averci seguito. Grazie e alla prossima.